È un progetto che risponde ai cambiamenti che in questo momento ci sono nel mondo. Il fatto che sia rivolto soprattutto ai giovani quando si parla di cooperazione internazionale o comunque di progetti rivolti a loro sicuramente che magari possono essere a nostra volta riproposti nelle scuole perché sensibilizzano su alcuni argomenti. È un modo diverso di vedere il mondo rispetto a tutto quello che è stato fatto in passato. Quindi sicuramente si va nella direzione giusta. Il fatto che tanti enti si siano uniti e si ragiona per territori è il valore aggiunto. Nel senso Asti sì è stato fatto qua però riguarda anche altre realtà, altri comuni, altri enti eccetera e quindi il fatto che si metta tutti insieme a ragionare su questi temi è un valore aggiunto. Secondo me è giusto portarlo avanti. Partecipiamo come Comune di Asti a questo progetto Regione 4.7 come partner e come fruitori del progetto sull'educazione alla cittadinanza globale. Ci partecipiamo perché crediamo profondamente nel valore dell'istruzione e dell'educazione alla cittadinanza. Lo facciamo quotidianamente con i nostri progetti che promuoviamo sia per le scuole ma anche per la popolazione giovanile 15-35 anni. Lo facciamo attraverso il servizio istruzione ma anche attraverso il nostro sportello dell'informa giovani e attraverso tutta la rete del servizio civile universale che gestisce quasi 200 volontari come capofila Comune di Asti. Progetto tante sfaccettature. Fino ad ora mi sono occupata principalmente della componente più legata alle scuole. Oggi è la prima immersione nel lavoro con i comuni insieme al Comune di Asti e devo dire che si è presentata una bella rappresentanza della rete e già solo nel primo momento di presentazione appunto di racconto si sono già creato una serie di interessi reciproci di connessioni che lasciano ben sperare che sarà un lavoro interessante e di scambio proficuo. È importante questo progetto creare l'obiettivo 4.7 dell'agenda 2030 perché permette come dire in rete di costruire opportunità di conoscenza appunto degli obiettivi del millennio, gli obiettivi di sviluppo sostenibile e credo che sia importante costruire una rete sul territorio come dire che si comunichi le cose che già si fanno che costruisca insieme una proposta di educazione alla cittadinanza globale.